Ci siamo quasi? Sì, ci siamo quasi. Adesso faremo gli allacci per quanto riguarda il metano e l'energia elettrica. Gli arredi all'interno è partita la gara perché noi abbiamo 100.000 euro per l'acquisto degli arredi. Vorrei precisare che ci sarà anche una sala multimediale dotata di tutti i comfort. Poi vi è una gara all'esterno che pure questa la bandiremo domani unitamente alle fogne di valle che riguarda la sistemazione esterna. È stato un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla regione per altri 200.000 euro. L'opera è impegnativa, ce la stiamo mettendo tutta e penso che a breve saremo anche in condizione di inaugurarlo. Quindi le sue preoccupazioni di una settimana fa, perché settimanale il nostro incontro con lei, un pochino sono svanite? Non è che sono svanite. Diciamo che con il lavoro si stanno risolvendo i problemi. L'opera è imponente, quindi bisogna consegnare un sacco di ditte, un sacco di adempimenti e con il lavoro ce la stiamo facendo.